Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un video molto lungo, abbastanza lungo, quindi mettetevi comodi, perché oggi andiamo ad analizzare quello che è il nuovo meta in seguito alla patch che è stata rilasciata in settimana da EA Sport. Vi parlo di nuovo meta perché credo sia evidente a tutti quanti che purtroppo sono state modificate tante dinamiche di gioco, a partire dall'elastico che è stato rallentato, o più banalmente parliamo di velocità di gioco rallentata di un botto, raga, sembra di essere ritornati a FIFA 20, FIFA 20 2.0. Quindi ci andiamo a vedere un po' come sono e quali sono le nuove meccaniche, le nuove dinamiche di gioco più ricorrenti che secondo me è opportuno andare a sfruttare, e per farlo ci andiamo a commentare insieme quella che è una partita che ho disputato sabato nel torneo di amichevole tra pro player organizzato da EA Sport in vista dei futuri tornei online, e che ho giocato a round 6, se non erro, contro Megabit, quindi pro player tedesco del Werder Brema ormai nella scena competitiva da tanto tanto tempo. Quindi, cambio di scena e siamo immediatamente in game, vedete qui la sua squadra si presenta con Gullit Kanté, quindi mia mediana uguale, solo che lui al posto di Mané si presenta con Pelé. Pelé che sicuramente prima della patch era veramente OP, adesso secondo me un pelino, un pelino ha perso qualcosa. Senza però perderci troppo in chiacchiere, vediamo subito una prima differenza, ossia che non mi vedete più schierato con il 4-4-2, ma bensì con il 4-2-3-1. E questo perché? Questo perché il 4-2-3-1 permette di avere una costruzione della manovra un po' più ragionata, e permette di avere anche più uomini a inserirsi, soprattutto in fase offensiva, e quindi a cercare di creare spazi. Qui con Kanté cerco un passaggio verso Cristiano Ronaldo, ancora un po' reduce da quello che era il gioco precedente, quindi un gioco molto verticale, e mi becco sto contropiede con Pelé che serve Neymar, parla dentro per Mbappé, nuovamente per Neymar. Io ero convinto che fosse fuori gioco, invece mi prendo questo kick-off praticamente tra il canino e l'incisivo proprio nei denti, l'ho sentito tutto quanto, ma ovviamente partita appena iniziata, stiamo parlando di una serie al meglio delle due, di conseguenza non demordo. Cerco con pazienza, vedete qui, di salire, anche se ancora, vedete, non ero entrato bene nell'ottica, qui era un passaggio forzatissimo verso Neymar che non ci stava. E un'altra cosa che potete riscontrare è come si riesca a uscire un po' più alti con i DC, con il gameplay così lento. Però ovviamente dipende alle modalità che andiamo a giocare, perché in base alle modalità che andiamo a giocare ci ritroviamo spesso un gameplay più veloce, un gameplay più lento. Qui al momento stiamo disputando un torneo sui server dedicati, dove il gameplay è molto molto lento. Per quanto riguarda la Weekend League, rimane un pochino un po' più veloce, rimane un po' più difficile difendere, ma comunque il mio consiglio non è mai quello di stare troppo schiacciati, perché in un gioco dove appunto la manovra è un po' più lenta, se vi schiacciate troppo è facile che l'avversario arrivi al limite dell'aria a cercare l'imbucata centrale per una delle due sue punte. E non va bene, perché poi basta poco, basta una finta di tiro, una skill, si girano e vi bucano. Intanto, quindicesimo minuto, vedete come cerco di uscire alto in una zona non pericolosa del campo, come quella lì, Gullit poi recupera immediatamente posizione e cerco di piazzare i mediani al loro posto e addirittura cerco un'uscita con Virgil, recuperando poi palla sempre alto con Varane. Questo anche perché comunque lui davanti giocava molto rapido, spesso spalle alla porta e di conseguenza mi dava un po' in là alla ricerca di questi interventi. Detto ciò, vedete qui quello di cui vi parlavo in precedenza. Tanta pazienza per quanto riguarda le manovre offensive e qui vedete quello che è il depotenziamento dell'elastico in corsa, tra virgolette. Avete visto come il movimento di Neymar sia stato ampio, quasi addirittura macchinoso e di conseguenza si è risolto il tutto in una perdita di palla che invece magari avrei potuto evitare cercando, non so, di andare dritto, con un doppio passo. Doppi passi che sono diventati veramente una delle uniche risorse per cercare di scardinare le difese avversarie dominate da quella che è la situazione della CPU e dei vari autoblock. Qui intanto vedete come cerco questo scambio tra terzino esterno e cdc che è Gulit ovviamente con piedi buoni, una cosa che con il 4-2-3-1 ma anche con il 4-4-2 vi consiglio di cercare spesso. Stessa cosa per questo filtrante verso Neymar purtroppo troppo lungo ma la giocata secondo me era giusta perché queste giocate qui se fate mandare il giocatore e magari cercate di mandare fuori tempo il vostro avversario che vi sta pressando poi trovate il buco per servire i vostri giocatori. Qui ancora una volta gran difesa con Varane e da questo recupero palla alto mi costruisco un'azione pericolosa, vedete, con Mané ancora una volta per Gulit. Passaggi di prima per quanto riguarda il centrocampo ve li consiglio e qui ancora una volta come prima palla verso Mané filtrante per Mbappé, sull'altro lato della porta arriva Neymar che è facile facile non può far altro che insaccare. Quindi 1-1, devo dire questa è stata una bella azione costruita con pazienza mandando gli uomini giusti all'attacco degli spazi avversari e soprattutto creata con cognizione di causa vedete come col 4-2-3-1 ovviamente il C.O.C. si butta dentro l'area. A proposito arriveranno poi probabilmente anche le tattiche per quanto riguarda il 4-2-3-1 aggiornate alla patch. Intanto ancora una volta qui cerco un filtrante verso Mané che di fisico riesce a prevalere su Walker qui sbaglio invece il passaggio perché ancora una volta forse troppo la giocata ragazzi e siamo arrivati in un punto del meta in cui serve tanta pazienza qui avrei dovuto tornare indietro, faccio una grandissima chiusura scivolata con Varano lui avete visto che aveva attivato il player lock ossia controllava il giocatore per poi chiamarsi l'inserimento se non sapete cos'è il player lock trovate il tutorial sul canale che è una feature che è stata introdotta quest'anno e vedete come riparto con pazienza alla ricerca degli spazi e ancora una volta qui un passaggio di prima verso Kanté che appunto secondo me era tranquillamente evitabile allora cerca di ripartire lui, io senza paura trascino Virgil fuori dalla linea difensiva per cercare di esercitare un po' di pressione ma vedete come mi sono portato con switch rapidi comunque due mediani davanti la difesa un'altra chiave secondo me della questione appunto è proprio questa tenere sempre i mediani davanti la difesa in maniera tale che facciano da schermo qui ancora una volta filtrantino un po' troppo azzardato nei confronti di Mané ma lo scarico verso Mbappé era ottimo perché se quella palla lì arrivava a Neymar io avevo già visto nella mia testa il filtrante sulla fascia per la corrente Ronaldo e l'azione sarebbe stata ottima qui inizio a trovare un po' più di spazi vedete come faccio lo speed boost ma sbaglio ad andare d'ignoranza facendo il reverse elastico e di conseguenza lui recupera palla qui probabilmente avrei potuto giocarmela in 10 modi differenti avrei potuto fermarmi, avrei potuto cercare di fare qualsiasi altra cosa al di fuori di quella intanto qui con Semedo avete visto come sono andato a fare un'ottima diagonale in chiusura su quel Pelé e possiamo andare a vedere dalle statistiche come comunque abbia retto abbastanza ossia un solo tiro concesso su quel kickoff e ci ho preso gol mentre per me i tiri erano due il primo era stato un po' rimpallato un tiro che forse non andava preso però diciamo una partita molto equilibrata nel rispetto di tutto quello che vi sto dicendo vedete come si vada a ricercare continuamente una manovra più lenta un'azione più ragionata alla ricerca degli spazi ditemi voi se non vi sembra di giocare a FIFA 20 vi ricordate a FIFA 20 l'anno scorso manovre lente, ragionate, passaggino in aria per l'attaccante finta di tiro, drag back sembra di essere ritornati un po' a quel meta lì un meta nel quale forse a questo punto i giocatori 5 piede debole mettono nuovamente il muso davanti a quelli con 5 di skill e questa era l'azione che vi volevo far vedere per farvi vedere che l'elastico invece da fermo una volta che vi siete fermati funziona ancora con Bappé me ne ero andato alla grande poi ho tentato il tiro a giro e non il passaggio in mezzo perché avevo visto che lui aveva chiuso ho detto proviamo sto tiro a giro con Bappé di sinistro non è uscito manco un tiro a giro è uscito una mezza steccata come se stesse giocando a biliardo un buon Bappé e l'ha tirata fuori lui intanto sembra un po' rallentare quella che era la freneticità della manovra che lo aveva contraddistinto nella prima fazione di gioco a favore di una manovra anche per lui un po' più ragionata vedete come cerca di trovare gli spazi in maniera un po' più tranquilla poi vi ho detto giocavamo nei server quindi sicuramente lui un pelino avvantaggiato visto che il server era francoforte e quello è in Germania praticamente con il popò sopra e io sono invece a Napoli ce lo aveva però comunque grazie a quelli che sono switch rapidi a centrocampo e in difesa mi sono riuscito a stare dietro ma una partita del genere va giocata a mille perché se non giocate una partita del genere a mille basta un momento di disattenzione e la partita si capovolge qui intanto bella palla dentro per Neymar chiudo io con una scivolata anche un po' azzardata visto che gli arbitri dal momento sono un po' stunnati però fortunatamente va tutto bene e prendo anche la rimessa dal fondo che rischiava di diventare un pasticcio perché non ho passato la palla al terzino non so perché andando un attimino in blackout e allora decido di spazzarla via per evitare di commettere ingenuità e prendere gol intanto qui uscendo troppo alto con Gullit mi gioco questo fallo a centrocampo prendendomi un cartellino giallo che non dovrei prendere mai nella vita per me visto che l'arbitro anche in questo caso si conferma mezzo stunnato e vado a monire a cazzo di cane quest'anno e intanto vedete come lui faccia sempre quello di cui vi sto parlando manovra lenta, palla fuori, palla dentro a cercare gli spazi ma guardate qui io come col mediano gli copro la linea poi switcho rapidamente tra Varane e Van Dijk per coprire ulteriormente e poi Kanté completa il disimpegno devo dire che questa partita l'ho giocata veramente veramente bene in fase di difesa soprattutto riguardandola sono fiero di me stesso perché venivo da una settimana un po' complicata poi appunto post patch poi con l'introduzione del 4-2-3-1 un attimino di accorgimenti tattici forse abbiamo ritrovato un attimino la quadra e addirittura vi dico che in VL ero partito una vinta due perse avevo perso contro uno che si chiama Sossio Aruta che adesso attualmente sta 7 vinte 5 perse che poi ho anche ribeccato e ho fatto quittare 7 a 1 al cinquantesimo e ci avevo perso 3 a 2 quindi per farvi capire come ho startato venerdì qui ancora grandissimo switch a recuperare palla con Kanté vedete 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 a centrocampo io vi consiglio di andare con questi passaggi rapidi passaggi rapidi che vi permettono di poter eludere quello che è il blocco dei centrocampisti del vostro avversario qui avevo creato una situazione favorevole vedete come cerco di servire la punta però con Neymar cincischio un po' troppo e di conseguenza la perdo poi sono abile a sfruttare questo ripiegamento capendo immediatamente la palla dove doveva finire ma rovino tutto riperdendola nuovamente quindi riparte nuovamente il buon megabizio al arrembaggio bello questo filtrante in fascia vedete come anche i giocatori sembrano che abbiano perso un po' di velocità sembra che alle volte non vogliano correre vogliano appositamente farsi recuperare dagli attaccanti vi dico che il gioco attualmente secondo me è un po' meno pay to win però il pay to win è un discorso un po' ampio magari poi ne parleremo più approfonditamente però lasciando stare chi scioppa e chi non scioppa però anche magari un player utilizzando una squadretta può ambire ad andare a comprare Ronaldo Mbappé perché io dopo che mi sono fatto un bucio così e ho comprato Mbappé devo vedere questo Mbappé recuperato in velocità da una carta con 70 di velocità punto di domanda è quello che è successo adesso pre-patch i giocatori andavano molto più via in velocità molto più via in velocità adesso stanno un po' col freno a mano tirato e di conseguenza capite che il gap tra Mbappé e Felipe Anderson per dirvene uno proprio Scrauso si abbassa ovviamente certo Mbappé rimane Mbappé ma giocatori del genere possono essere anche utilizzati qui intanto siamo giunti al 76esimo risultato ancora in parità ma vedete come nessuno dei due nonostante sia la prima partita accenna a cercare di forzare troppo i tempi io qui cerco una giocata sulla linea laterale col terzino che cerco spesso per creare un po' di superiorità vengo chiuso abilmente da Gullit perché ovviamente appena provi ad andare centrale contro quelli che hanno Gullit messo bene in posizione diventa un attimino problematico lui intanto con dei cambi un po' esotici ha fatto entrare Hazard al posto di Ronaldo e Son al posto di non ricordo chi cosa che probabilmente ma mi sarei sognato di fare probabilmente si Son al posto di Pele ora guardando i giocatori in campo e qui ero convinto guardate lì di aver preso quella palla con Gullit me ne vado convinto di averla presa qui anche con Virgil perdo il contrasto ma vedete la chiave è sempre non panicare prendere il mediano portarlo in posizione qui lui ha una buona occasione perché io avevo preso il DC creandogli appunto quel buco però ovviamente sono stato bravo a far uscire un po' il portiere a chiudergli lo specchio e qui ho questa buona azione avete visto nuovamente come l'elastico da fermo sia abbastanza worth in quel caso lì vedete come non forzo ancora una volta il tempo di gioco palla dentro per Ronaldo tiro la palla rimane lì ma ne la butta dentro io raga ve lo dico l'ho detto anche mentre giocavo ho cercato sta giocata appositamente perché sognavo che il portiere la respingesse sui piedi di un mio giocatore perché Ronaldo di sinistra da lì non poteva mai segnare però ho detto o la va o la va siamo all'ottantottesimo magari il minutaggio aiuta proviamo a fare una giocata del genere e mi ha premiato ma sempre con con pazienza qui addirittura lui va un attimo a sgangherare le sue righe e io avevo l'occasione per potermene per potermene riandare vedete qui con quest'azione di Semedo cerco di andare il più avanti possibile per non far fischiare l'arbitro qui il suo cullit si 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 mongola e io con Semedo cerco di servire Neymar che però fa sta animazione strana poi fun fact lui butta la palla fuori ero convinto la palla fosse finita premevo A per schippare e andare alla prossima batto sto calcio d'angolo che manco mi ero accorto di aver avuto in maniera un po' ambigua quindi una partita raga di masterclass dal punto di vista difensivo vi ho fatto vedere un po' quali sono gli automatismi che utilizzo per difendere soprattutto quando becco avversari di alto livello stiamo parlando di un top mondiale al quale ho concesso solamente due tiri in 90 minuti e ci siamo andati ad analizzare quella che è la situazione del gameplay post patch situazione che vi ripeto quindi si va a basare tanto su un gioco molto lento e che vede sicuramente la ribalta dei giocatori con 5 di piede debole seppure quelli di 5 skill rimangono validissimi per comunque skill come il reverse elastico eccetera workano veramente alla perfezione niente per chi è arrivato in fondo a questo video raga vi ricordo di lasciare un mi piace un commento fatemi sapere che ne pensate del gioco al momento io mi devo dire la verità lo trovo molto noioso era molto meglio prima spero che si diano una svegliata piuttosto andassero a patchare il pressing che non si può vedere invece di pensare al codino di ronaldo e al e all'elastico che insomma erano cose che sicuramente potevano rimanere nel gioco e anzi potevano essere imparate da chi non le sapeva fare e nulla quindi fatemi sapere le vostre sensazioni su questa patch io vi aspetto ogni giorno in live raga lo sapete vi auguro una buona giornata e nulla ciao ciao